Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato questa sera, quinta domenica di Pasqua, tre meravigliose letture e due per opera dell'Evangelista Giovanni. La seconda lettura, dalla sua prima lettera, è il testo del Vangelo. Vorrei partire dal testo del Vangelo perché è una di quelle pagine, di quei versetti che andrebbero analizzati parola per parola, di modo che questa parola entri dentro il nostro cuore, faccia breccia nella nostra mente e in questo modo alimenti la nostra vita, il nostro modo di pensare, di sentire e di agire. Fa parte di quei discorsi che vengono chiamati di addio. Sono i discorsi di Gesù nell'ultima settimana, quella che chiamiamo santa, prima della passione, morte e risurrezione, o addirittura durante l'ultima cena. Il testo di questa sera, i primi versetti del capitolo quinto, hanno l'immagine della vite. Gesù dice per due volte, io sono la vite. La prima volta dice, io sono la vite vera. La seconda si accontenta di dire semplicemente, io sono la vite. Ma quell'affermazione iniziale, io sono, ego e mi, ha un significato fondamentale per chi lo stava ascoltando. Perché è il nome stesso di Dio, è il modo con cui si traduceva Yahweh, io sono. E nel Vangelo di Giovanni, l'affermazione sulla bocca di Gesù, io sono, ritorna in continuità, dall'inizio al termine del Vangelo. Io sono la luce del mondo, io sono l'acqua viva, io sono la via, la verità e la vita. Domenica scorsa abbiamo ascoltato, io sono il buon e bel pastore, io sono la porta delle pecore. E io sono, lo dirà anche, di fronte a Pilato, interrogato, su chi era e sulla verità. E questa sera utilizza l'immagine della vite. Io sono la vite. In qualche modo il Signore Gesù ci sta essenzialmente parlando di Dio, di chi è Dio e di come lo possiamo in qualche modo sperimentare e anche immaginare nella nostra vita quotidiana, nelle nostre giornate. C'è un particolare in questo testo che in genere tralasciamo perché dopo aver detto io sono la vite, quella vera, aggiunge e il padre mio è il padre mio è l'agricoltore. Pater moi o Georgos. Il padre mio è l'agricoltore. Io provengo da un ambiente e da un luogo dove si coltiva essenzialmente la vite e dove l'industria agraria e enologica è di alto livello. Ma in tutto l'ambiente mediterraneo, come ai tempi di Gesù, la vite era uno degli elementi più comuni e più conosciuti e lo conosciamo bene. Dire che il padre è l'agricoltore in qualche modo significa dire questo, a mio giudizio, che quando cerchiamo Dio, vogliamo sentire la presenza di Dio al nostro fianco, non abbiamo bisogno di guardare tanto in alto, di andarlo a cercare in chissà quali pensieri o sentimenti o desideri miracolistici, o pensarlo come colui che dall'alto controlla e cerca di guidare le sorti. Se Dio, padre, è l'agricoltore e cura la vite e i tralci, vuol dire che sta esattamente al nostro livello. L'agricoltore non sta più in alto della vite, anzi, il più delle volte sta più in basso, ha sempre i piedi ben fermi sul terreno e si china sulla vite per togliere le erbacce che la infestano, per curare i tralci uno ad uno fino al momento della vendemmia, quando raccoglie i grappoli. Dire che Dio è l'agricoltore, il georgos della vite, significa dire essenzialmente questo, che Dio sta al nostro livello, che il padre è al nostro fianco, è davanti a noi, e molte volte è addirittura più in basso di noi, perché si sta prendendo cura con sollecitudine e con tenerezza. Perché all'agricoltore, come a qualsiasi professionista autentico, sta a cuore il suo lavoro e ciò che sta curando. E a Dio, al padre, sta a cuore infinitamente ognuno di noi, ogni essere umano. E al nostro fianco, ci è di fronte, si china su di noi. Ogni volta che lungo la nostra giornata e la nostra vita, viviamo momenti di gioia vera interna, scopriamo gesti di tenerezza e di accoglienza, sentiamo nel nostro cuore momenti di autentica felicità e di respiro, ma anche quando ci accorgiamo di certe sofferenze che tagliano, ma alla fine migliorano e ridanno vita, sicurezza e fiato, ecco lì è Dio, il padre, l'agricoltore, che ci sta prendendo cura di noi, di me, di tutti. Ecco, in questa parabola c'è, a mio giudizio, una meravigliosa immagine di Dio che il Signore Gesù ci consegna, ma nello stesso tempo ci invita ad assumere quindi l'atteggiamento vero della fede di fronte a Dio padre. E poi aggiunge l'altra immagine. Ecco, io sono la vite, sono la vite vera, allora rimanete in me, rimanete legati a me. I tralci, se non sono legati alla vite, al ceppo, o non producono frutto, o alla fine sono destinati ad essere tolti, tagliati e seccare. Ma il bello è che tutti i tralci, anche quelli che non portano frutto, fondamentalmente, se sono vivi, è perché sono legati alla vita. Anche in essi passa in qualche modo la linfa della vita. Se no, non ci sarebbero. Questa immagine per me è fondamentale perché in qualche modo il Signore ci viene a dire che tutti, tutti, come persone, siamo legati a Lui. che la nostra vita, per il semplice fatto che siamo entrati in questo mondo, che partecipiamo a questa umanità, in noi scorre la linfa che viene da Dio. Ma se poi non portiamo frutto, è forse dovuto non a Lui, ma a noi, al non apprezzare questa linfa che scorre dentro, al pensare ad altro. Ecco allora che veniamo tagliati fuori e mancherà il frutto. Ma che cos'è? che rende questa linfa vitale e permette, attraverso la potatura, la distinzione tra ciò che è positivo e negativo, tra il bene e il male che alberga comunque sempre nei nostri cuori e nel nostro pensiero, che cos'è? Che permette di potare e di purificare e quindi di rendere il tralcio che siamo noi portatore di frutto e come dice il Vangelo di molto frutto e lasciarci purificare dalla Sua parola. Per sette volte Gesù ripete in questi otto versetti il verbo rimanere e dice rimanete in me e la mia parola rimanga in voi. Questa è la linfa, la Sua parola, che rende vitale la nostra esistenza e la rende capace di frutto e di eternità. E questa parola che purifica, pota e permette al frutto di crescere. E tra questi frutti il Signore ne indica alcuni, ne indica almeno tre. Il primo è la gloria di Dio Padre. Il cristiano che lo voglia o meno, che lo sappia o meno, nella misura in cui permette alla parola del Signore di rimanere in Lui e di scorrere nella Sua carne, glorifica il Padre. Ne diventa testimone perché darà frutti di opere di carità e ogni opera di carità fatta a servizio è opera che glorifica Dio. Perché la più grande glorificazione di Dio è compiere le opere di Dio e le opere di Dio sono carità. L'altro frutto è quello di poter chiedere ed ottenere. Qualsiasi cosa chiederete verrà fatto. è forse difficile credere a questa affermazione del Signore. Quante volte ci sembra che non sia stato così nella nostra vita. Quante volte ci sembra di avere levato preghiere e non essere state esaudite. in realtà Dio esaudisce sempre se scorre questa linfa nella vita nostra ma esaudisce secondo i Suoi tempi perché sa quando è il momento del bene ed esaudisce donando soprattutto lo Spirito. La frase corrispondente nel Vangelo di Luca simile a questa del testo di Giovanni è proprio quella in cui Gesù dirà e allora qualsiasi cosa chiedete Dio ve lo darà e non vi farà mancare il Suo Spirito e sarà quel Suo Spirito che ci guarisce e ci porta a compiere opere di carità che modificano in bene la vita nostra la vita dell'umanità la vita dell'intera creazione ecco il secondo frutto del rimanere in Lui e far scorrere la linfa della Sua parola nella nostra carne e infine c'è un testo un terzo frutto ed è l'ultima parola diventerete miei discepoli non si è discepoli in forma magica casuale o semplicemente anagrafica perché il nostro nome è stato scritto sui libri nel giorno del battesimo certo senza il battesimo non ci sarebbe il dono della fede ma non basta quello scritto per essere autentici discepoli perché possiamo mantenere il dono nascosto e inutilizzato dobbiamo diventare giorno per giorno suoi discepoli e questo è possibile unicamente rimanendo unito a lui e facendo scorrere nel nostro sangue la sua parola queste stesse affermazioni le abbiamo trovate in forma ancora per alcuni aspetti a mio giudizio più bella nel testo della prima lettura viene innanzitutto consegnataci una frase che per me è un po' il vertice del Nuovo Testamento e dell'amore di Dio immenso di questo Dio che è l'agricoltore colui che sta di fronte a noi e addirittura si abbassa per servirci curarci e sanarci attraverso l'opera della potatura della misericordia quando Giovanni dice non abbiate paura anche se il vostro cuore anche se il vostro cuore vi dovesse condannare Dio è più grande del vostro cuore ecco ricordarci questa affermazione credo ci aiuti ad uscire da ogni difficoltà ricordiamoci che anche se tante volte non riusciamo ad uscire dalla nostra coscienza perché ci sembra ci condanni anche quando sappiamo di aver commesso peccati enormi non dimentichiamoci che Dio è più grande e rivolgerci a Lui significa entrare nel cammino della verità e della vita e per concludere San Giovanni aggiunge il cuore dei frutti di questo rimanere legati a Dio questo è il comandamento di Dio che crediamo nel suo nome e ci amiamo gli uni gli altri se vogliamo avere la sintesi della nostra fede della nostra religione del cristianesimo sta proprio qui credere nel Signore crocifisso e risorto il Kerigma la nostra vita a cui rimanere legati e amarci gli uni gli altri dare frutti di carità saranno frutti buoni ed abbondanti e quanto chiediamo al Signore e quanto sappiamo che è possibile ad ognuno di noi se rimaniamo con Lui e nella Sua parola amén grazie a tutti